Seconda giornata di festival, questa sera sul palco si esibiranno gli altri dieci cantanti noi abbiamo incontrato Valerio Scano che torna per la seconda volta sul palco e quindi a breve avrete l'intervista che abbiamo realizzato con lui quindi aspettate, pazientate e scoprite che cosa ci ha raccontato oggi il tempo è meraviglioso, guarda che sole ciao